Il murinello che stiamo usando, che è l'ideale per la pesca in campodromo, dove viene richiesta molta potenza, è il Rarenium, in questo caso è il 5000, scegliamo un 5000 per il motivo che vi ho detto, quindi un murinello robusto, molto potente, è costruito in Siaifor, che ha una lega molto leggera, questo 5000 pesa soltanto 315 grammi, ha 6 cuscinetti a sfera ed uno a rulli, viene fornito con due bobine di ricambio, questa è un'altra e una comoda sac a poche dove può essere riposto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.